Siamo a Murazzano in provincia di Cuneo, nello splendido territorio delle Langhe si trova il parco safari che noi adesso andiamo a visitare. Il parco si sviluppa in un'area di circa 70 ettari ed è uno scenario assolutamente incontaminato, ideato per ospitare qualsiasi tipo di animale. Saliamo in macchina e dopo quel canciallo lì non si potrà più scendere perché andiamo di incontrare gli animali feroci. Nylon ropes and plastic slides, a concrete world for abstract minds, it's all controlled by man's designs, nothing here is real, and we're all just keeping busy in this everlasting zoo, we're all just killing time, cause there is nothing else to do. Il percorso si snoda lungo un itinerario di circa 5 km, percorribile interamente all'interno della propria auto. Ci sono dei punti in cui si può scendere, in altri punti invece che sono popolati da animali più pericolosi bisogna assolutamente rimanere all'interno dell'abitacolo con i finestrini chiusi. Abbiamo la macchina rossa e lì abbiamo un toro. Qui siamo in un punto del parco dove si può scendere dalla macchina e si può andare a visitare i vari animali. Andiamo a vedere le scimmie. I see the life that used to be the dancing of the leaves as I'm swinging through the trees and I am searching for a place to lay my head, the forest is my bed, till they ring a bell to feed us and they flash a light to lead us in the smeared glass cage. As we spend our days on stage and it's all they'll know and I am on stage and there we go." ... ... Grazie a tutti.